Ciao a tutti ragazzi e bevoli di questo video Oggi sto giocando Con la mia seconda migliore amica Cioè Sofia Ciao a tutti ragazzi Oggi Non sappiamo ancora che sfida facciamo Infatti io la scrivo Facciamo Che sfida facciamo Visto che è la prima volta Sofia Ok perfetto Ho capito già che Sofia è uscita Allora Che sfida facciamo Facciamo Decidi Tu Per la prima Volta Oddio Oddio raga ma perché esce Oh no non è uscita Perfetto Oddio dove è Sofia Oh Ciao Auguri Decidi Una Sfida Decidi una sfida Sì ok che ti bagga Non sono fatti i miei Non è colpa mia se ti bagga Comunque Decidi una sfida Visto che è la tua prima volta Che fa i video con me Quindi Vai aspetto Dobbiamo toccare Solo le cose rosse Oppure Oppure Viviamo Solo Nelle Cose No 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 E camminare sulle cose rosse Ok Ed Essere Di vestiti Rossi Da Tre Due Una Ciao Sofia Ci vediamo Il prossimo Anno Allora io Prima di tutto Vado qui E Mi faccio i capelli rossi Ok Mi levo Questo Questo Non posso Tenermelo Ovviamente E Ma lei è ancora lì Veramente Ma raga Comunque Vabbè Comunque Non ti interessa di lei Mi metto Questo pantalone Una maglietta Che sia Ben 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 Rossa E Non so Tipo Questa Vabbè Dai Non è proprio rossa Però Dai però Ce n'è una rossa Fila E qual è il colore Dei capelli Poi Poi cosa Mi posso mettere Accessorio Nei capelli Vediamo questo Allora Accessorio Accessorio Di rosso Un accessorio Sempre se ce vediamo Prima No 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 Mi so che Non troverò Niente Di colore Rosso Come Accessorio Una bandana No Non l'avevo mai provata Per questo Non sapevo Com'era fatta Mi dispiace Ma per Accessorio Non c'è niente Oh Ma lei sta Barando Lei sta usando Cose Non rosse Allora Le userò Anch'io Soltanto il cappello Lo userò Di colore Non rosso Ora 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 La borsetta Rossa Ci manca Schiviamo Tre Due Uno Stop Stop Andiamo Oddio Che bella Allora Votate Io Uno Due Tre Quattro Cose Rosse Lei Uno Due Tre Quattro Cose Rosse Siamo Quattro A Quattro Abbiamo Vinto Entrambe Un'altra Sfida Facciamo Un'altra Sfida Ok Allora Vediamo se Dice Lei Che sfida Fare Allora Dobbiamo Camminare Sulle cose Verdi Ok Tre Due Una Via Oddio Raga Come facciamo Grazie Di avermelo Detto Sono al prossimo Verde Ora ho bisogno Di un altro Verde Per camminare Verde Verde Oddio Sto cadendo Oh no Mi dispiace Verde Verde Vediamo qua Verde 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 Oddio Oddio Mi si è buggato Tutto Praticamente Però Raga Oddio Verde 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 Non si sentire Scusate ragazzi Se avete sentito Questo rumore Ma È stato Un messaggio Del telefono Oddio Perfetto Ok Oddio Ok Ciao Sophia Me ne vado Vivo Oddio Oddio Mi si è buggato Tutto Raga Mi si è buggato Tutto Comunque Aiuto Sofìa Ha rubato Ha rubato Che mafia Che mafia Che mafia Che mafia Oddio Oh Guardate Guardate Il soro Ciao Sofìa Sofia Sofìa Sofìa Docei 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 L'obiettivo L'obiettivo Era Ma Quando mai Ma 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 Vabbè Il video Finisce Qui Il video Il video Finisce qui Ci vediamo Damani Con un prossimo Video La mia Amica Sofia Vi deve Salutare Infatti Ora Vi saluterà Vero Ok Ciao Comunque Il video Finisce qui Ci vediamo Domani Con un prossimo Video Iscrivetevi al canale Attenzione La campanella E lasciate un bellissimo Like E E Buonanotte Perché da noi È buio Poi da voi Non so se è mattina O buio Comunque Buonanotte Perché da noi è buio Ciao